I ribelli libici sostengono d'aver conquistato Zawiyah, città a 50 km da Tripoli, importante terminale petrolifero sulla costa verso la Tunisia. Queste immagini, girate sabato, mostrano i ribelli fare festa in uno dei quartieri della città. Oggi abbiamo liberato la città di Garian, sulle montagne, poi Sabah, ora Zawiyah. Domani arriveremo a Tripoli, afferma un ribelle. Ma l'ottimismo dei militanti ha replicato il governo di Tripoli, sostenendo da avere tuttora il controllo di Zawiyah. Il portavoce dell'esecutivo ha affermato domenica di attendersi una prossima offensiva della NATO Suraj Dir alla frontiera con la Tunisia, che potrebbe portare a una strage di civili. Resta aperto il fronte di Brega. Nella città della Libia orientale i ribelli stazionano in un quartiere residenziale, ma non sono ancora arrivati all'importante campo petrolifero, il cui controllo permetterebbe di avviare l'export di greggio, liberando così risorse decisive per la rivolta contro il regime di Gheddafi. Conquistato due volte dai ribelli, il complesso petrolifero di Brega è in mani governative dall'aprile scorso.